Una sigaretta gigante campeggerà per tutto il weekend in via 8 febbraio, in pieno centro storico a Padova. I dettagli nell'intervista, ehi perché, per come, nell'intervista dicevo alla dottoressa Samuela Binato. Sappiate che l'iniziativa si intitola Esci dal tunnel, non bruciarti il futuro. Dottoressa Samuela Binato, responsabile Valce per il Veneto. Ci sarà un'iniziativa in questo weekend qui a Padova per sensibilizzare sui rischi del fumo e sui danni e sulle ripercussioni che può generare nella formazione di tumori al polmone. Di cosa si tratta? Valce è un'associazione che nasce nel 2006 da un'idea italo-spagnola che vuole essere la prima associazione a respiro europeo nella lotta contro il tumore del polmone. Nasce con l'obiettivo proprio di sensibilizzare le donne nei confronti dell'aumento di questa patologia nel sesso femminile in particolare e quindi informare adeguatamente per quanto riguarda i rischi del fumo. Nei prossimi giorni a Padova ci sarà la prima campagna nazionale gratuita di informazione dei danni da fumo. Sarà presente un tunnel a forma di sigaretta in piazza Cavour a Padova il 3 e il 4 ottobre. All'interno del tunnel si potrà sperimentare le problematiche e avere adeguate informazioni sui danni da fumo. Inoltre al termine ci sarà la possibilità di eseguire una spirometria gratuita, un esame che è in grado di rilevare la capacità respiratoria.